Benvenuti nel mondo di Cima. Cima è un marchio di orologi svizzero che può vantare una lunga e prestigiosa storia nella produzione di orologi di alta qualità. Fondata nel 1862, Cima ha iniziato la sua attività come produttore di movimenti per orologi da tasca e successivamente si è espansa nella produzione di orologi da polso. Uno dei modelli più famosi di Cima è il Navistar, un orologio da immersione introdotto negli anni 60. Grazie alla sua resistenza all'acqua e alla sua affidabilità, questo orologio è diventato molto popolare tra i subacquei professionisti. Negli anni 60, Cima ha fatto parte del gruppo di marchi che si sono uniti per formare la società Synchron, che ha poi acquisito il marchio di orologi Zodiac. Oggi, Cima continua a produrre orologi di alta qualità con un'attenzione particolare ai dettagli e alla precisione, utilizzando tecnologie avanzate e materiali di alta qualità. L'obiettivo di Cima è quello di creare orologi che non solo siano belli da vedere, ma anche estremamente affidabili e precisi. Cima utilizza solo i migliori materiali per la costruzione dei suoi orologi, come acciaio inossidabile di alta qualità, cristallo di zaffiro e movimenti svizzeri. Cima è un marchio che ha saputo evolversi nel corso degli anni, pur mantenendo la sua attenzione per la qualità e la precisione. Grazie alla sua lunga storia e alla sua esperienza nella produzione di orologi di alta qualità, Cima continua a essere uno dei marchi di riferimento nel settore degli orologi svizzeri. Cima ha sempre prestato molta attenzione al design dei suoi orologi, cercando di creare modelli che siano non solo belli da vedere, ma anche funzionali e pratici.